Ancora una volta ciao ragazzi e bentornati nella serie delle custom map più brutte di tutti i tempi Se non la smetti con quel braccino te lo mozzo e te lo fico nel colon Ora, questa mappa si intitola la casa dei segreti Quali segreti non si sa, probabilmente che sua madre lo picchia la notte con un uncino Anna, leggici la descrizione creata da questo tizio che si chiama Lollo Sporco Mi sa una cosa del genere Allora, si chiama Lollo Pollo Dice Ciao a tutti ragazzi, ho finito questa mappa proprio oggi giovedì 19 gennaio alle ore 20 e 20 Anyway, passiamo al point Odio la gente che parla mezzo inglese e mezzo italiano Ma li prenderei a manate sulle... Ma non è tutto Sei in questa stanza, sembra un ufficio e trovi un cartello con su scritto Mandato importante, mettere sulla scrivania Lo leggerete, affronterete tante sfide in forse 15 stanze Ci ho messo forse 10 ore a finire tutto e questi screen spiegano Ci sono degli screen che non si vedono e poi dice In alcune parti è anche divertente ma cercare l'uscita è frustrante Alla fine di ogni quasi livello c'è una cesta con un lingotto d'oro C'è un solo bonus il quale non svelo di che si tratta Oppure dei baroni capiscono Mario è un barone Mario di merda Regole d'oro Ovviamente non usare mod che facilitino la fine della mappa Usare tmi o altre mod solo alla fine Vabbè cagate varie dai Cagate tante 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 Ah, se volete un aiuto d'oro Non credete spesso ai cartelli Qualche volta dobbiamo credere ai cartelli Ok, inizio a leggere Vado Comunicato di alta importanza Metti sul tavolo Ed è un foglio di carro senza scritto niente Vabbè Ok, è un comunicato importante Oh wow, funziona Eh, sei chiuso Legge Chi legge? Ciao Voglio Se vi levate dai coglioni Mario Mario, tu ultimamente c'hai un vizio Che stai in mezzo ai coglioni Sei tipo un terzo Sei un tumore Ti vuoi levare? Me ne vado No Stai ma stai lì Oh Cioè, legge Ciao Voglio fare un gioco Ma non Ma non morirai Oh, accidenti Che cazzo di discorso è? Voglio giocare Voglio fare un gioco Andiamo a giocare a Daisy Però non moriremo Se sopravvivi Quindi morirai Tornerai a casa End recording Ok Ce la facciamo A arrangiare sta cosa Si Si alza il vento Si spazza il vento Che cos'è? Ma c'è un lingotto d'oro Che è forse il bonus Posso tirarle a caso? Aspetta Devo leggere Penso che tu sappia Cosa fare Eh si, tirare le leve a caso Ok Tiriamo le leve a caso Se la trovo Ce la vende in culo Allora mi basta Non ne dirà nessuna Mi sa che la madre Lo picchia con una leva Alla notte Aspetta Aspetta Ragioniamo Il tizio è un idiota La leva deve essere vicina alla porta Ah ci sono anche queste Ma Ma Non è che non l'ha collegata No No È una di queste Beh io ero in game mode Ma non è che per caso Sono in combinazione No Ma che Eh La porta non è collegata Davvero Eh Davvero Guarda con i tuoi occhi Da dove l'avrebbe collegata Forse è da sopra Forse è da sopra Miseria Di nuovo Ancora un livello Ma scherziamo Ancora un livello Ed il paradiso Guarda Eccolo Eccolo il coso di redstone Ma non poteva funzionare Dove porta? Porta dall'alto Guarda Seguiamo no La sua mente idiota Porta fuori Eh Ma qui E non è attaccato E la leva stava fuori E la leva stava qua fuori Oltre la lava Io però io ci ho cliccato Oddio che schifo Cioè tu dovevi andarti a cercare La leva fuori Sì ma io ci ho pensato A sta cosa E ho cliccato fuori Ma non è successo niente Eh ma perché è impossibile Vabbè Cioè fatemi capire Dovevamo attraversare la lava Almeno la messa Almeno la messa Allora Ora Aiuto Ma ora che cazzo dobbiamo fare noi qua? Dobbiamo rifare la stessa cosa Ma io sto premendo le leve Non succede niente Aiuto Qua bisogna attraversare la lava ragazzi Che sfida Ah no Basta però eh Ho un incontro duro Ci avevi creduto Ma uscia uscia Ma uscia uscia Che risate stupide Però ma uscia uscia Cioè chiedi Che Tu vabbè a trovare Una persona nel mondo Che quando la ferite Ti dice ma uscia uscia Non lo so Ma forse c'è Ok cerca il bottone giusto Ho trovato Ma che dobbiamo uscire? No secondo me Dobbiamo fare questo qua Quindi non c'è in realtà C'è un cartello Fermi Levatevi Ok Riprova più tardi Secondo me è di qua Questo tizio si crede di essere Scendete Che ti guardi Troll face Cioè questi bambini Si credono di essere Un casino simpatici Secondo me Ma lo sono Lion Sì è vero Mamma mia Ah forse è qui Aspetta E se qui Non dovessimo rompere No 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 Non devi rompere Nelle mappe Quello lo sanno tutti Allora nessuno di questi Pulsantini di me Di là ci stanno gli slime Quindi non bisogna andare C'è uno slime alla finestra Uno slime alla finestra Amore mio Allora ci deve Eh l'ho trovato L'ho trovato Qua sotto ci sta Qui qui ci sta Ah ecco ho visto No No era un inganno Forse dall'altra parte Ma che cavolo è Aspetta Il continuo c'è Perché l'ho vista da fuori Qui c'è un pistone Infatti Forse se premiamo Il polsante giusto Si apre Eh brava brava Quindi togliamo Eh no Non c'è niente sotto Ehi sono passato Dove Sono stato il pistone È vero Andiamo 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 Come Una cesta con un lingotto d'oro Che io prendo lo stesso Bravo dice Grazie Bravo hai rotto tutto Eh 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 Mi ci levo nemmeno Dalla game mode Tanto so già che ci saranno Altre cose da rompere Perché fanno questi tunnel Ma non lo so Perché non Eh eh Niente leve Niente bottoni Niente lava Come farai Butta giù la porta Ma che No aspetta ora Seriamente Cosa devi fare qua Secondo lui Non devi togli sta torcia No Ma non possiamo No Dimmi te Dimmi te Cosa devi fare Secondo lui Beh scommettiamo Che la apro Commettiamo Prova Ci metti una leva di prima Ditemi se si apre No No Sotto di noi C'è la stanza iniziale Anna Anna Sono scivolata Scusa Lion Eh Vieni 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 Guarda che sto bravo Guarda qui in alto Stai trovato Oh wow Che schifo Brav Bravo Quindi non dobbiamo citare Per andare avanti A piacere Molto good Nem Però pare che abbiamo citato Ti stanno due stronti qua Sì lo so Ma ne sono accorto Sto cercando di far finta di niente Ora ce ne sta uno di stronzo Dai Basta eh Bel lavoro Occhio di lince Occhio di lince Testa di cazzo Ora niente Porta Niente Leve Niente 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 Acqua Niente 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 Che mappa di merda Ci sono buono anch'io a farla così Però c'è una leva qui E quella l'ho messa io E c'è un cartello qui Dove Che ti guardi Non ci troverai niente Che simpatico che è questo qua Speriamo che gli venga la Mario Stanotte La Mario Ah la Mario La Mario Invece sì che ci trovi C'è una leva Eh 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 Vabbè Oh brava No Ok Good job Ti adoro Come hai fatto A vederlo X No quell'altra Em Scusa per i filamenti Di redstone Costa troppo Nasconderli Che schifo Eh Mazza che merda Vabbè Che porco Adesso mina il diamante Mina 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 Che via L'ha rifatto Muahusha Muahusha Quindi ci sono tre strade possibili No Che tu devi scegliere Qua c'è scritto Arg pirata Strada sbagliata Riprova Che cazzone Oh che palle Qua c'era scritto Mi voglio godere tutte le sue battute No Pe Chuck Testa Eh Boh Come sa parecchi memes Memes Hai mai giocato a minecraft Comunque strad Ha sbagliata Mario l'ha rifatto Che cosa Andare in mezzo ai coglioni Come un Vai sempre avanti Questa volta Hai sbagliato Eh vabbè Che divertente Che è questa mappa Guarda Ho una via Ho l'altra Io preferisco avanti Quindi Di qua Ho detto avanti Idiota Eh ci ha fregato Eh ci ha fregato Ed ora Mo'ha uscia 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 Qua si è divertito un casino Eh sì perché più a lungo Che divertente Beh cosa dobbiamo fare È il ritardo di chissudo Eh poi Sicuramente Qua c'è un melone Eh quindi significa Dall'altra parte Ci sta una cesta Cosa c'entra Come che c'entra Vabbè abbiamo tolto tutto Cioè dove sta la leva Devi picconare il melone Perché non l'ha detto Ma è vero c'è una cesta però Ma non l'aveva detto C'è una cesta con una leva e una barca Una barca Una barca Boh Oh che palle Mi stupisco che tu sia arrivato fin qui E ci sono di nuovo un casino di leve Vabbè Ci voleva la laurea in intell Ci voleva la laurea in intelligenzologia XD Cioè manco XD sa scrivere La puoi buttare Spero che tu non abbia buttato la barca di prima Hai un guardo in alto Oh Sì sta qui in alto Quando mi rocca di goble E beh Come E che ci dobbiamo fa Eh che ci dobbiamo fa Tutto fa brodo portiamo Ci malevo Metto la barca per terra Ma cosa devo buttare Cioè non ho capito l'ordine di questi cartelli Spero che tu Cioè è prima questo No è prima quello che ti vuoi Perché scegli Allora voglio che sia La puoi buttare ora Nel culo a Stefano No Ma che Andiamo avanti Ci abbiamo una leva No Ci sono dei bambini Sì ce l'abbiamo Ma Vabbè Rimani su questo blocco E premi la leva decisiva Aspetta c'è un cartello Il blocco del cartello Non voglio morire dai Vai Muori Eh la lava sopra No Fottuto Andiamo Ovvio no È ovvio Peccato Ai tempi di oggi c'è crisi Nessuno mi dà il canon Redstone gratis Quanto è stupido Ma Voi non gli fareste male Abbastanza Comunque hai vinto Grazie di aver giocato Sali le scale Aspetta finita Adesso non è la fine No credo che sia È stato bello trollarti Sì perché Ok Cos'è Mario È daverti trollato di nuovo Asterisco troll Mario Non è mica finita qua Cosa ti ho detto Riguardo al fatto Che sei in mezzo Ai coglioni Stavo davanti Ma è diverso Come Perché c'è uno scheletro In casa Perché sono morto io Non lo so Ma perché ci sono altre leve Perché ci ha trollato Non è finita Dai ho uno scheletro Ma che bisogna andare di qua No Apriamo Aspetti Pizzo quello che è in mezzo ai coglioni Tiè E vai Ovvio X2 Hai ancora l'armatura Ah ovvio Perdi Mi sa che dobbiamo passare di nuovo Nella lava Ops No 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 Aspetta Non sopra Non sopra Sotto Dritti Dritti sotto Bravo Eh ma dai Ma siete dei budelli Ma mi sa che è un attimo impossibile però eh Gli slime mi melano Grazie dai No zombie Eh ma dai Amore calpa mia Un creeper pure Ma che ma No Fai esplodere Oh aspetta Sto rompendo la mappa Sto rompendo Picchiatelo Oddio Ok Fermi Mario Cosa ti ho detto Mi sta ammazzando Eh Ma che cos'è sto schifo Iiii Ah facciamo un rumore Allo scherzo Ok è morto Fermi Se non l'hai trovata Non ti resta che attivarla Che cosa Si è attivata Si è aperta la porta Entriamo Ma come Hai lasciato qualcosa dietro Forse Xp Dai in fondo sei bravo Se è riuscito a completare La prossima prova Ti manderò a casa tua Cioè vuole venire a casa di Mario Altri filamenti Stupido canone Sta battuta Non l'ho capita Forse intende le tasse Il canone redstone Ha detto lui Il canone è un cane grande Non so tasse Canone Quello è un canone Vabbè Il labirinto finisce qua eh Ehi l'ho trovato Bravo Come hai fatto? Io ho volato Uffa Mi dispiace di doverti lasciare Mario Mario Ma non so io Io sto per terra Io sto qua E' stato lui che è passato Lo so l'ho visto Ma che cavolo dici Sei un verme Ma ora vai a casa tua Divertiti Andiamo a casa Oh che bella casa Che abbiamo E' un cubo Casa di pingoballino Censimento Fatto Però abbiamo un bel pavimento Oh guarda A quanto pare Siamo dei cheater Abbiamo blocchi di diamante Ed enchantment table Accidenti Stanza incantesimi Guardate che bella Cos'altro possediamo Un frigo Senza niente Una stanza incantesimi Che dentro fa schifo Oh c'è un pulsante Andovina Non serve a niente Andiamo super veloci Ah Arreda tu Oddio Dobbiamo continuare a giocare Arreda tu Oh dobbiamo arredare Sì Dobbiamo arredare Oh ma che bello Secondo me ci starebbe bene Una flint and steel Sì sì E poi sopra c'è scritto E visse per sempre felice e incontento Perché lui è convinto Che qualcuno che ha giocato Questa mappa di merda Si stabilisca nel suo mondo super piatto Ottimo stia dando fuoco Pieno di slime Di merda Per giocare per sempre E voi ora morirete In questa casa orribile No io scappo Al rogo No mi hai dato fuoco sotto Ho dato fuoco a tutto sto cesso Ma dai È come il gioco di Barbie Dove è finita la storia e dice Ok ora continuo a giocare Nella mia fantastica casa rosa Ecco la sua fantastica casa rosa Sta andando a fuoco La cosa mi piace assai Dai ormai lo sappiamo come funziona Iniziano a giocare Fanno qualche buco E poi dicono Ehi creiamo una fantastica super mappa Aiuto Secondo me se andiamo un po' in giro Troviamo tipo la sua scultura Di Di un pene Di un pene E sotto c'è scritto Un giorno ce l'avrò purissimo Comunque Per questa volta è tutto Vi auguriamo una buona giornata Se la giornata di oggi Dove essere il finito La storia di guardatevi domani Lion, Stefano, Mario e Anna Out Ciao Ciao Ciao